Questo è l'alberello di progetto Mondomlal, un pensiero piccolo e semplice che rende speciale la tradizione del regalo di Natale. È un alberello classico simbolo occidentale delle feste, confezionato con le soffe dell'Africa. Cerca di ridurre le distanze tra il nord e il sud del mondo e di far entrare un po' dei colori dell'Africa nelle case delle persone a cui lo regaliamo. È un pensiero che fa la differenza per tante persone sia in Italia che in Africa. Infatti i fondi ricavati dalla campagna andranno a sostenere i nostri interventi di lotta alla malnutrizione in Burkina Faso, da cui provengono le stoffe. L'alberello è confezionato dal laboratorio Agave di Padova, che è un laboratorio di sartoria che insegna il taglio e il cucito a ragazzi di origine straniera per aiutarli nel loro inserimento lavorativo e nel loro percorso di integrazione nella società. Quindi è un piccolo pensiero, ma che fa davvero del bene in Africa e in Italia. Grazie a tutti!